allora buongiorno a tutti stiamo a cavanove a calcinaia provincia di pisa siamo l'ultimo dell'anno qua sperando che abbiamo allestito tende roulotte per passare la fine dell'anno vi faccio un grande saluto a tutti a 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